ciao a tutti bentornati sul canale come state come vanno le cose oggi sono qua felicissima perché indico un nuovo giveaway e siccome avevo preannunciato ho un po di premietti per voi e quindi via via vi vado facendo questi piccoli regalini allora questo giveaway è come gli altri giveaway doppio quindi potrete partecipare qui su youtube ma anche su instagram quindi seguitemi anche su instagram le regole sono sempre le stesse praticamente dovete essere iscritti a questo canale mi raccomando mettete le iscrizioni visibili perché io devo controllare dovete mettere un like a questo video dovete lasciare un commento mirato e poi vi dirò cosa voglio sapere questa volta e poi dovete condividere questo video dove volete voi per quanto riguarda instagram dovete seguire il mio profilo quindi essere dei miei followers dovete mettere un like mi piace insomma alla foto del giveaway che troverete appunto sul mio profilo e poi appunto dovete scrivere il commento mirato e infine dovete ripostare la foto del giveaway sul vostro profilo e taggarmi quindi sto parlando sempre di instagram il giveaway inizia oggi e termina il 6 aprile e il 7 aprile io annuncerò il vincitore con un video qua su youtube quindi io vi consiglio di partecipare sia qui su youtube che su instagram per avere un'altra chance di vittoria il commento mirato è questo vi chiedo di dirmi che titolo avrebbe la vostra vita se fosse un film quindi ispiratevi a un film famoso e ditemi che titolo avrebbe la vostra vita se fosse un film adesso vi faccio vedere quali sono i premi che ho messo in palio per voi allora il primo premio che vi faccio vedere è questo è un kit per le sopracciglia c'è il colore più scuro quello più chiaro e questo praticamente è firmato a ilur questa è la marca ed è stato pensato da questa ragazza qui che si chiama flair de force ed è una youtube molto famosa qua in inghilterra altro premio sempre per le sopracciglia questo mi era uscito dalla glossy box l'ho messo in palio per voi è un kit per pulire diciamo le sopracciglia dai peletti con appunto delle strisce di cera quindi è come farsi una piccola ceretta alle sopracciglia però appunto c'è ci sono gli stencil dentro qua ci sono poi tutte le istruzioni altro premio metto in palio è questo è un un cuoricino rosa di questa marca I love makeup ed è un cuoricino che contiene un trio di blush tre nuance di blush un blush più chiaro un blush più scuro e poi questo bellissimo rosa per quanto riguarda la confezione c'è anche la scatolina adesso l'ho aperta per farvela vedere ma poi ve la mando tutta bella confezionata altro regalo è questo un pennello proprio per applicare il blush poi ho un kit piccolino di ombretti sul viola visto che il viola è il colore di questo anno almeno così ci dice la moda quindi questo piccolo kit da borsetta della marca technique sempre della marca technique o questo lip gloss per lato rosa glitterato non so se si riesca ad apprezzare bene però è bello bello glitterato poi passiamo alla skin care che sapete mi piace tanto e metto in palio tre maschere di bellezza una maschera all'oro trattamento all'oro che distende i tratti e e anche anti aging una maschera di montageness al melograno questa è peel off quindi la dovete poi togliere delicatamente rimuove lo strato di cellule morte vi lascia la pelle bella luminosa e poi una maschera notturna questa qua di sephora all'oto molto buona idrata la pelle e quindi questi sono tutti i premi che ho messo in palio per voi quindi mi raccomando leggete bene il regolamento che si trova qui sotto nell'info box e partecipate numerosi invitate i vostri amici a partecipare e io vi saluto raccomando continuate a seguirmi seguite i miei video ogni lunedì mercoledì e venerdì buona fortuna a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao